Sono le mani! Un jingle da parte tua, non pensi sia arrivato il momento? Vaffanculo, coraco... Frullo. Frullo ha donato. Due euro. Che non risica non rosica. Vaffanculo, frullato. Allora... Qua sono troppo lunghi, in mezzo, rispetto a come sono qua. Questo è uno dei problemi. Anche qua è troppo lungo, rispetto a come è qua adesso. Ok, li faccio più corti di lato. Non lo so, aspetta. Adesso provo ad asciugarmi e li vedo come sono. Se fanno tanto schifo... Facciamo qualcosa di stupido, almeno. Perché già faccio schifo. A sto punto... Invitare Solange? Vaffanculo. Grazie, Negan. Va bene, ma fermo. No, fermo. Stringimi la mano, perché se noi facciamo qualcosa di stupido, ma va male, la colpa è tua. È già colpa tua, questo. Questo è già colpa tua. Marco, mi tagli i capelli live? Ok, bro. Richiesta tua. La sfumatura è ma più lunga. Cerca il taper, dai. Cerca il taper, dai. Cerca il taper. Ma guarda tu se devo cercare il cazzo di taper online. Il sottolineatura Lambo ha donato. Due euro. Grazie Lambo. Se non ci provi non lo saprai mai. Ma il taper è difficilissimo da fare. È sfumato. Non so farlo. Dai, ma che cazzo è sta roba? Cioè, guarda qua. C'è la sfumatura. Come si fa? Ci vogliono le forbici. Io ho una merda di coso che mi è costato 30 euro. Fa schifo. Vabbè. Tutorial su YouTube. No, ragazzi. No, 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 no. Digli che lo sai fare. No, ragazzi. Non voglio che finisca male. Non siamo su quelle challenge del cazzo che vi guardate su online. Ma che ci fa un mostro a casa nostra? Eh? Che ci fa un mostro a casa nostra? Dany Metal. No, Daniele. Quei capelli fanno un po' schifo. Ciccio. Che c'è? Gli ho tagliati io. No, non sono male. Ah, ho tagliato un po'. No, non sono male. Non sono male. C'è ventato. Sembrava un barboncino. No, no, no. Questo è un errore. Questo è tu che sbaglia a dire le cose. Io? Eh. No, mi sono spaventato. Ah, poi ho diventato Daniele. Mi spicchiato a mio fratello. Ma che succede? E lui... Buonasera amici Dany. Non ti preoccupare. Sei sempre bello Ciccio. TVB. No, ma no, no. Io non... Non parlo di me. Parlo di... Di Daniele. Puoi non dire niente mentre lui è qui? Non dico niente. Senti e basta. Tanto, Robert, dirti la mia. Ok, se ti chiede Ciccio come sto... Non stai male. Non stai male. Non stai male. Non stai male. Quelli che credono davvero in quello che fanno. Quelli che credono davvero in quello che fanno. Cosa cazzo vuoi che faccia? Sei un grande mercolo. Sì, sì, grazie. Grazie Junkie Rotwitch. Dimmi cosa cazzo vuoi che faccia. Bro, prendi quella macchina e ti risolvi il problema. Dai. Ok, dimmi cosa c'è che non va. Bro. Mi vedi? Ti ricordi come ero ieri? Sì. O fino a dieci minuti fa? Sì. Ok. Cosa vedi? Miglioramenti o peggioramenti? Ciccio? Sì. Che vedi tu? Miglioramenti o peggioramenti? Fami dovere il termine adatto. Sei... Nerfato? No. Aspetta. Non è nerf questo. Aspetta. Ciao ragazzi, potreste dedicarmi a un jingle di 6 secondi? Certo, è il pidio. È il pidio? È il pidio? È il pidio? È il pidio? Allora, nel senso, ti stanno bene a Master? No, Ciccio. Non dirmi che sto bene perché mi fai incazzare. Ok, sistema è il problema. Bro, io ho posti detto una cosa mia. Cosa vuoi fare? Ora. Vuoi lasciarti? Marco deve prendere in mano la situazione e risolvere il problema. Ho paura che non abbia io le competenze necessarie per prendere in mano la situazione. Ho peggio d'arte. Però penso di avere tutte le carte in regola per rovinare ancora di più quello che ho fatto. Andiamo di là e miglioriamo tutto, Marco. Vai a prendere questo cazzo di rasoio. Vai! No, faccio schifo. No, faccio schifo. No, te lo dico giù adesso. Però vuoi parlare con Marco, se vuoi. Aspetterò la fine per dare un giudizio. Vabbè, in caso io parlo con te anche se tu mi rispondi. Ok. Allora, vorrei essere il più sincero possibile con te. Ma proprio perché sono tuo amico, ti voglio bene, è probabilmente stare bene la sera. Non ti continuo a contare. Stai un po' male. Cerco di essere un po' più... Vabbè, cerco di essere un po' più... Fai schifo. Però, se posso dirti la mia, caro Pio Daniele. Nella vita, in questi momenti di distruzione, che comunque qua si parla di... Cioè, di stare a santi la qualità. Quanti anni in dettagli? C'è tanti, eh. Visto un di un altro. Due euro. Marco, sei un barbiere nato a Elezza. Riproduci il barbiere di Siviglia. C'è stato un problema, Marco. Ti chiedo perché... Ti chiedo come ieri rasi? No, ora ci fanno su, ci fanno su. Posso... Ma che bene che sta! Ma che bene che sta! No, ma sei Rami Malek. No, fermo. Zitto e fermo. Non guardare di là. Non guardare di là, bro. Non guardare di là. Comunque... Non mi muovo! Se posso dirti la mia, bro, assomigli molto a quello che ha fatto Freddie Mercury, Rami Malek. Cioè, puoi starti zitto per due secondi? In realtà... stai male, è bello! È che devi abituarti, bro! Dai, dai! Cioè, tua chat dice il contrario, però vabbè! Frullato e donato! 2 euro! Cerco un vagante retrosessuale, ecco che arriva la crisi! Già o buo, ai wubi, uopa, uubi, uopa, uubi, uopa, bananatataki, i win! Non so se vuoi come lo so attaccassi i cavalli, eh! Non stai male. Sembra un conto, un fiocco, scrivono, eh! ... Tenente Pupilli e donato? 2 euro! Meglio togliere tutto che lasciare un lavoro in perfetto a metà l'ezza riproduci il nuovo Vietnam di Johnny I. Asimuta donato? 2 euro! Non lo definirei un taglio di merda ma un capello rettale. ... Oh no! Oh no! Oh no! Come cazzo lo sapeva? Oh? Oh? Come cazzo lo sapeva che diceva oh no! Dove sei? ... ... ... ... Se l'ha donato? 2 euro! Ehhh... ... 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 Posso guardarmi, Marco? Sì, mi vieni. Ma qua cosa mi hai lasciato un ciuffesto? E ora si stiamo, ora si stiamo. No, bro. No, bro! Guarda, guarda! Siamo fratelli! Bro, ma che cazzo è sta roba? Eh? Ma sembra che sono malato! Sembro malato! Io non so fare niente! Guarda, lui si dopo ha fatto il fatto! No, l'ho detto pure prima! No, ma dai! E che cazzo! Ma siamo a zero! Non è meglio così che era da zero! 2 euro! Oggi dibattito sulle lesbiche 15 anni represse, eh? Con i capelli tinti! Mmh! 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 Aspetta, scotola di Gavanne qua, Polini! Mmh! 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 Aspetta, scotola di Gavanne qua, Polini! Hai finito o no? Non lo so, sì, boh no! Dietro! No, no, no! Ma quello là dove lo sistemiamo? Adesso! Guardare lo specchio! Western me l'ha donato, 2 euro, ciao ragazzi, Strumox ogni volta che ci sei dei miei lumini la serata! Me l'ha chiesto lui! Eh beh, per essere il pazzo lui a fidarsi! Io non mi sei mai fidato, eh? Ma non lo dico al male! Io lo faccio con me, ma perché è facile! Ma tu non hai un taglio! Ma io ho la testa diversa lui, dipende da quello! Ma ormai un taglio definito tu, ma che ci sta? 2 euro. Marco sfoltiscigli un po' la massa, troppi i capelli esitevano modellare un po' di... Ma ragazzi, ma non è un barbiere! Io non so fare niente! Ragazzi, non è un barbiere! Intanto per diminuire i capelli sopra ci voglio una forbice. È un pettine. Ah! Eh! Daniele del futuro ha donato 2 euro. Beh, ora sai perché Filippo ci metterà soldo. Dimenterà. Dimenterò il capo di una gang napoletana best to reload. Dimenterà. Non sta male! Sembro? Eh? Una lesbica che non sa se fare il maschio o la femmina della coppia... Non stai male, devo solo tagliarli dietro! Mi piace! Ok! Devo solo tagliarli dietro! Va bene così! Sì! Sicuro? Questa è la vera forma! Dietro posso aggiustarli! Cadrà acqua eh! Molto meglio di quell'aborto di prima! Prima ero un uovo non fecondato! Adesso sembro una persona! Se vai in bagno esco della stica pelli per la maglietta! Togli la maglietta in bagno e esco da qua! Vabbè finisci prima no? Ok! Un uovo di acqua! Un 2 è... Un 3 è... Un 2 è... Un 2 è... non credo hai capito quello che ha detto si sono pazzo sono molto insicuro ma lo sa che dietro a una figa anni 70 glielo ho detto io la sto giustando la figlia il pulsato 2 euro a due del signor Daniele ora vuoi andare nella mia rivulina in protogionica indo-europea c'è chi ripeta con me kuguru kuguri lo vado con il del seguito e il daza molto bello ve lo diciamo? si ecco qua sta a go perfetto per la locandina di fare 3 e 4 benvenuti nel T-Lead ok a posto? si adesso non c'è la figa di 70 euro un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa dici? Prima l'ha rovinato e poi l'ha aggiustato. Io ho anche dei capelli un po' di merda, ma non voglio farmi toccare da nessuno. Faccio io ciccio? No. Ciccio, raso di baffetti di merda. Eh sì, di raso. La vita di vita è finita bene. Grazie Marco per essere d'ispirazione. Puguru Puguri! Forza. Fiscio e arrivo. Grazie. E' difficile fare le cose che non sai fare. Ma porca! Non piangete, per noi siamo già morti. Vedete una anche a me? Puguru Puguri! dire qualsiasi cosa che lo potevi invitare proprio cioè così me lo fai vedere davanti Jacopo scusa Jacopo scusa eh scusa ma ti sto accogliendo il telefonino non è che hai una riduzione che ti sta arrivando allora se questo deve diventare il meme fra di noi io fra di noi ci sono anche loro no non mi interessa di loro loro non affliggono la mia vita quotidiana se io mi devo alzare sentendomi chiamare Jacopo o qualcosa del genere di qualsiasi tipo faccio una strage facciamo sì bro facciamo decidere la strage ragazzi non chiamate Daniele e Jacopo non mi interessa di loro mi dissocio ma quando volevi uscire fuori dalla strage allora 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 divertentissimo sono il primo io che ammettere che è divertente questa cosa qua ma mi fa male voglio dirvelo ogni volta che lo fate mi fa star male se mi sento direi Jacopo pantellino video chat ma tu come fai in bagno rispetto ad una donna o domande di questo tipo mi fanno star male io dentro perdo qualcosa ok ve lo dico poi fate quello che volete divertente comunque nel senso che stai così male che vuoi andare via da qui jacopo ha donato 2 euro california 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 grande marco non pensavo riuscissi a portare Jacopo dei pantellas in live le mie conoscenze da youtuber grazie bro li ho sognati pure ieri notte hai sognato i pantellas ho sognato ieri notte i pantellas è la premonitore stupide ma che c'è bro sottolinea tua fotostazione ha donato 2 euro dai strucopo non stai male strucopo strucopo cosa ci fa Jacopo in live chi? capello rentale capello rentale beh no bro li ho pure sognati nooo vabbè comunque ho le più capellite Jacopo quindi comunque non è certamente tanto l'importante è che non siamo in guerra bro come mi chiamo allora sdrucopo mi piaceva a me allora io sento sdrucopo ancora togli questa mano dalla mia vista tu sei un nemico adesso ho capito che sei un nemico non hai detto una parola quindi sei un nemico 2 euro ciao Marco non c'era il blocco tra regioni fai tornare a casa Giuseppe Sappio subito non è Giuseppe Sappio guarda bro io ti prometto una cosa provo a dimendere la chat ok però io te la prometto è la mente a Rose abbiamo un po' leccardo ha donato 2 euro Daniele se vuoi chiedere i danni a Marco posso darti il contatto dei miei avvocati penso che ho perduto già già prima ero poco credibile adesso mentre parlo sono veramente impossibilitato a dire qualsiasi cosa se stupi e ricarica un video di io che parlo con questa acconciatura non solo diranno che è fake si sottolineano gli occhi ma mi diranno che sembra un cazzo di napoletano un pantellino california che è giusto sdrucopo sdrucopo no saluto pantelliano è così vuoi andare via da qui sei un omietol pantelliano bro se qualcuno regala 5 sub io ti chiamerò trunox per sempre ok non mi chiamano chiamami Daniele 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 dipende dalla chat ok ciccio e se ne lo fa la chat comanda ciccio io c'è solo un modo per mettere secondo me un sorriso oh picuzza è donato 2 euro bella ragazzi sono